per vincere un campionato ci vuole secondo me un mix di cose da innanzitutto vabbè un ambiente forte, un gruppo sano, uno staff preparato, una società attenta a qualsiasi aspetto durante l'anno subentra comunque un mix di fattori che può essere la sfortuna o la fortuna può essere come si superano determinati momenti della stagione sia positivi che negativi però alla base di tutto c'è un'unione forte tra staff e squadra che poi viene riportata in campo e fa sì che la squadra, il compagno dia tutto l'uno per l'altro Io ho cominciato all'età di 5 anni, spinto da mio padre che era un appassionato di calcio in una società in provincia di Napoli, sono rimasto lì fino all'età di 14 quando poi tramite un osservatore della Juventus mi sono trasferito a Torino da solo senza la famiglia e ho cominciato tutto l'iter delle giovanili fino a poi ad avere la soddisfazione di esordire in Serie B con la Juve No, a scuola andavo bene, mio papà che era un grandissimo martello sotto questo punto di vista e quindi ricordo delle scene di quando ero bambino che mi diceva oggi ti porto a fare allenamento però fai i compiti in macchina che non avendo il tempo di farli a casa perché per far coincidere gli orari e poi trasferitomi a Torino ho continuato gli studi fino al raggiungimento del diploma poi ovviamente non sono andato avanti perché ho preferito concentrarmi sul calcio visto che ho capito che poteva essere poteva diventare la mia professione non so perché perché non era nemmeno il mio ruolo preferito ma mi piaceva tantissimo Nedved lo guardavo con tantissima ammirazione poi il destino ha voluto quando mi sono trasferito a Torino lui è diventato un giocatore della Juve l'ho conosciuto da vicino e ho avuto anche la fortuna di esordire entrando al posto suo quindi proprio lo scherzo del destino è stato questo è stata un'emozione bellissima è stato già in passato qualche cosa la possibilità di venire o per lo meno ho saputo che da parte della società c'era stato un interesse nei miei confronti io venivo da cinque anni straordinari a Carpi dove avevamo vinto due campionati sfera di una salvezza perso una finale playoff e per quanto mi riguarda consideravo comunque chiuso un ciclo motivazioni erano finite non avevo veramente più un briciolo di energia da dare e non mi vergogno a dirlo Perugia anzi devo ringraziare il presidente perché è stato avuto una pazienza importante per portarmi qui e diciamo che il suo corteggiamento è stato qualcosa di decisivo oltre al fatto che comunque la squadra era forte la piazza era importante quindi sono stati tutti aspetti che messi insieme mi hanno fatto prendere questa decisione la fortuna di venire qua è conoscendone già qualcuno nel senso che o da avversario o da compagno penso vabbè a Del Prete nel quale ho avuto modo di fare il settore giovanile o una parte del settore giovanile insieme conoscevo Belmonte conoscevo Volta, Buonaiuto quindi l'inserimento è stato facile il gruppo è fatto di tanti ragazzi persone semplici tanti bravi ragazzi e soprattutto ci sono comunque tanti giovani che almeno in questi due mesi hanno fatto vedere che hanno voglia di emergere in un gruppo con una buona base di giocatori esperti avere tanti giovani così diciamo di qualità competitivi con queste caratteristiche può essere sicuramente una cosa importante per la squadra con chi ho legato di più per questione di vicinanza di casa con Belmonte che ci vediamo spesso anche le nostre compagnie si vedono Perugia ho visto qualcosina ho visto il centro che non è facilissimo da diciamo da raggiungere poi diciamo per questioni logistiche non è che lo frequento tantissimo ho visto qualcosina ho visto qualche città qua intorno nel tempo libero qualche volta con mia moglie e col bambino però mi riservo di poterla scoprire mano a mano anche perché non è che sono due mesi alla fine che sono in città e non ho ancora visto tutto diciamo così probabilmente se non avessi giocato a calcio forse avrei continuato gli studi avrei continuato gli studi senza lo dico con molta sincerità sapere o comunque pensare a quale prospettiva o che cosa scegliere ecco però non mi sento di dire sarei andata a lavorare qui o lì penso che avrei continuato gli studi e poi in base al percorso che mi piaceva di più avrei cercato comunque di entrare nel mondo del lavoro ma allenatore fare l'allenatore è una cosa tosta gestire un gruppo di 25 giocatori più lo staff più tutte le sfaccettature che ci sono intorno anche a singolo allenamento penso sia una cosa oltre che una responsabilità ma una cosa abbastanza dura e difficile da fare non è così non è così semplice non è una cosa che mi attrae tantissimo fare il dirigente perché no magari al fianco di un direttore sportivo o come osservatore visto che mi piace guardare un sacco le partite sotto questo profilo penso di poterlo nel senso una cosa che mi piacerebbe fare poi non ci ho ancora pensato perché spero di giocare ancora qualche anno quindi quando sarà più avanti ci penserò faccio un saluto a tutti i tifosi bianco rossi e continuate a sostenerci perché abbiamo bisogno di voi grazie 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 grazie